Sospensione delle strisce blu e ZTL ridotta fino al 31 luglio. E' questa la richiesta dell'Automobile Club di Piacenza, che ha inviato una nota formale al sindaco Patrizia Barbieri. L'ente invita l'amministrazione comunale a considerare la perdurante situazione di difficoltà economica, al fine di non gravare ulteriormente a livello financiario sugli automobilisti, sia impegnati professionalmente nei settori del commercio, sia in qualità di clienti delle attività. L'Automobile Club propone perciò la proroga delle misure di alleggerimento tariffario per i veicoli in transito in città, in particolare per quanto riguarda l'esenzione dei parcometri e la variazione oraria per l'accesso alla ZTL fino al 31 luglio, data presunta di termine dell'allerta da Covid-19. Per ora l'assessore alla mobilità Paolo Mancioppi si limita a replicare che la richiesta verrà discussa e analizzata prossimamente. Nel frattempo infatti l'amministrazione comunale ha già predisposto le agevolazioni per l'ingresso in ZTL e la sosta gratuita nelle strisce blu, fino a domenica 31 maggio compresa. L'orario di validità della zona a traffico limitato va dalle 8 alle 12 e dalle 15 alle 19, con accesso libero tra le 12 e le 15.